Recentemente, Kate Middleton ha aperto il suo cuore riguardo una battaglia personale molto intensa, condividendo che sta combattendo contro un tumore e che si sta sottoponendo a chemioterapia preventiva. La verità è emersa solo quando è stato annunciato che, già a gennaio, Kate si era sottoposta a un delicato intervento chirurgico addominale. Questa operazione è stata realizzata da un eccellente team medico dell'ospedale policlinico Gemelli di Roma, operante presso la London Clinic nella capitale inglese. Anche se non sono stati divulgati molti dettagli sull'intervento, le notizie confermate dai media britannici parlano di un completo successo dell'operazione. Medici collegati all'ospedale romano si sono detti ottimisti sulle sue condizioni, lasciando intendere che una diagnosi precoce possa aver individuato la malattia in uno stadio iniziale, offrendo quindi un barlume di speranza. Nel frattempo, le questioni riguardanti la famiglia reale non si fermano qui. Un recente rapporto del settimanale Gente ha sollevato preoccupazioni sulla salute di Re Carlo II, suggerendo che il monarca soffra di dolori ossei dovuti a un cancro prostatico. Malgrado ciò, Buckingham Palace ha prontamente smentito un peggioramento delle sue condizioni, mostrando il sovrano in pubblico in uno stato di salute apparentemente meno critico di quanto si temesse.